Ma sì, ma sì, va bene lo stesso. Allora, qual è stata la parte più emozionante? Guarda, diciamo che la parte dei brasiliani, scusa, sono brasiliana, quindi anche se non hanno vinto, però hanno partecipato. Va bene, però è stato un bello incontro. Sì, è un bello incontro, sì, sì, anche se non guardavo tanto perché mi veniva un po' così, un po' strano, il sangue e poi... Però va bene, sono stati belli incontri e fra l'altro anche bello il balletto, no? Il samba, divertente, no? Abbiamo fatto la samba, abbiamo fatto un po' di festa, quindi è andata tutto bene, sì, sì. Fantastico! Allora, vuoi ricordarci il tuo nome? Vanessa. Vanessa. Io diceremo. Ok, grazie, grazie mille. Alla prossima. Alla prossima, ciao!